Elion Chatillon presenta il Quartetto Cetra Allora d'accordo, il cliente di ogni nazione qui deve sentirsi come a casa sua, capito? Capito! Il Quartetto Cetra Compagnosca, che volischi, comprarosca e faccomischia a casa vuosca, volga volga, niccio e bom Io vorrei contare in questo piccolo bazar un bel ricordo da portar come lassù Brava la musica, mi permette che le dica e qui dentro quel che vuole può trovare No, questo no, no, questo no, no, non mi va, no, non mi va Ma che vorrà? Niente, niente Ma che vorrà? Niente, niente Mi dovete dar qualcosa che fa sfavigliare, che fa la gente rivoltare, che fa gridare Io mi sbaglierò, ma questa qui non sa che boh, è buona solo a dire no, proviamo ancora No, questo no, no, questo no, no, non mi va, no, non mi va E quello no, 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 no Oh che fibra special! Elion! Nelle calze! Sessibon! E' un finato treschic! Elion! Negli impermeati! Sessibon! Tutto il mondo lo sa, è di gran qualità, e l'elio chatia, che fibra!